I più importanti medici ed esperti di medicina estetica si riuniscono a Caserta sabato e domenica presso il Grand Hotel Van Vitelli in occasione dell'Ottavo Congresso Nazionale della Sirna, la società italiana di radiofrequenza non ablativa. Dalla rigenerazione della pelle all'alimentazione, dalla tricologia alle nuove tecnologie medicali, tanti temi in agenda, due giorni moderati da giornalista Raimichele Cucuzza. Partecipano docenti come Marcellino Monda, presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Van Vitelli, Giuseppe Argenziano, responsabile della clinica dermatologica sempre dell'Università Van Vitelli, Giovanni Messina del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia. La Sirna organizza il convegno in partnership con G-Derma, gruppo internazionale di ricerca in dermatologia correttiva, estetica e rigenerativa, rappresentato dalla presidente Elisabetta Fulgione. Sarà presente Emanuele Bartoletti, presidente Sime, e Andrea Servilli, presidente nazionale di TME. Gli obiettivi di questi due giorni sono tanti, spiega Gianluca Russo, medico, estetico e presidente della Sirna. Certamente è importante fare il punto sulle novità principali in un settore in continua evoluzione, qual è la medicina estetica, ma anche dare voce all'esigenza, largamente condivisa, di una sua più severa regolamentazione.